Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale, oggi ragazzi come potete ben vedere siamo di nuovo qui su Farming Simulator 19 nella nostra bella mappa Ischia Farm Allora ragazzi ci siamo lasciati la scorsa volta con l'inizio della semina delle canne da zucchero ovviamente insieme a Stan, Stan 84 Purtroppo ragazzi Stan in questi ultimi giorni ha avuto dei problemi con il canale Youtube che sta cercando di risolvere e che per privacy comunque preferisco non dirvi Se volete comunque dettagli su quello dovrete ovviamente chiedere a lui se lui vorrà fornirle Quindi ragazzi siamo da soli, non so per quanto tempo ancora saremo da soli, spero vivamente per poco tempo ancora Però nel frattempo che aspetto che ste fa tutte le verifiche che deve fare del caso ovviamente E noi dobbiamo finire qui da soli o meglio continuare da soli Allora ripeto qua stavamo facendo la semina delle canne da zucchero Adesso ci terminiamo ovviamente questo campo così almeno abbiamo il campo ovviamente terminato qua al 6 e poi dobbiamo procedere con la semina del 22, del 23, del 24 Però ovviamente ragazzi prima di iniziare vi ricordo che in descrizione trovate i miei link utili compreso il link di Telegram, del nuovo canale di Telegram Se volete andateci a dare un occhio perché veramente vale la pena pubblico un sacco di aggiornamenti lì sul canale E ovviamente il link delle donazioni se volete fare un piccolo supporto al canale Ovviamente vi ricordo anche di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto Di lasciare un bel like, di commentare, fatemi sapere cosa ne pensate della puntata E ovviamente di condividere il video e di attivare la campanellina così non vi perdete nessun aggiornamento Detto ciò ragazzi dobbiamo finire appunto questa semina Purtroppo siamo soli raga quindi sarà molto molto più lenta di quello che dovrebbe essere Già è lenta di suo quindi Ok raga finalmente ho finito cioè finito ho finito il campo 6 Finalmente ho finito il campo 6 Ora che dobbiamo fare dobbiamo andare a mettere le due seminatrici sul campo 24, 23, 22, 23, 24 Però mi sa che è infatti sono mie tute sono ancora mie tute quindi dobbiamo assolutamente Uh qua c'è ancora la paglia ancora Cavoli questo è un bel problema perché non ricordavo ci fosse ancora la paglia sopra Vabbè niente devo raccogliere la paglia e poi iniziare a lavorare i campi per farli seminare Quindi finisco di raccogliere un attimino questa paglia Nel frattempo raga che il New Holland scarica paglia al biogas Io prendo il Fiat e lo metto sui campi a lavorare Devo però prendere il l'erpice 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 Ok raga iniziamo a mettere l'operaio qua così intanto mi svolge la lavorazione qui di arieggiamento Anzi di coltivazione Ok vediamo un po' giusto solo se parte Perfetto mentre questo va io vado a finire con il New Holland Ok eccoci qui con un altro bel carico E scarichiamoci tutta sta bella biomassa Siamo già a 115.000 litri Buono Uh anche laggato Allora adesso lo metto a scaricare diciamo in questa maniera più o meno E voilà altro scarico fatto Andiamo a fare l'ultimo Dobbiamo fare l'ultimo carico e scarico poi qui al biogas E poi ci siamo tolti dai piedi almeno questa lavorazione Poi dobbiamo procedere ovviamente a finire di coltivare tutti i campi E alla semina finalmente delle canne da zucchero Mamma mia che lavori raga che mi sta facendo Mamma mia che stress veramente Che lavoracci che lavoracci Ok raga 98 99 e 99 no Aspettate raccogliamo ancora un qualche cosina Ok 100 Queste tre striscioline raga le lascio in campo Non sto a tornare indietro per tre strisce Anche perché ho tantissime cose da fare Allora andiamo a scaricare immediatamente Già che c'ero raga che stavo passando qui dagli allevamenti Ho deciso di portare Quest'ultimo carico di paglia Qui agli allevamenti Perché ho visto che gliene manca E gliene manca parecchia Quindi ho preferito portarla qui Probabilmente la consumeremo anche tutta in realtà Eh perché qui non avevano più nulla Anzi non hanno più nulla Eh la ma come mai non hanno più nulla Sti animali Abbiamo mandato avanti il tempo veloce la scorsa volta In realtà neanche ricordo raga Un'altra cosa raga che vorrei fare È prendere il cassone con il camion Prendermi un trattore con la benna Caricare la maggior parte Anzi direi tutto l'etame E consegnarlo direttamente Oh mamma Direttamente al BGA Così produciamo comunque altro digestato Che poi in realtà credo si possa Se non vorrei dire una cavolata Ma anche vendere il digestato Ok abbiamo pulito tutta la stalla Vediamo un pochettino quanto è insomma Praticamente per colpa della sporcizia che avevano accumulato Era praticamente vuota la mangiatoia raga Praticamente era vuota Bene allora Andiamo a vedere solamente un secondino Come sta il 1355 cingolato Per vedere se effettivamente sta lavorando bene E direi che sta lavorando proprio da cani Per non dire altro Ok rimettiamo adesso l'operaio Vediamo sperando che se ne vada dritto Sì benissimo E ci andiamo a recuperare le due seminatrici Sempre che le trovo Allora qui è finito I semi sono finiti Quindi andiamo a recuperarci i semi Ok nel frattempo che il same Finisce di caricare Vado a portare questo bel Lamborghini Che ricordo che è affittato raga Quindi non è nostro Lo dovrò restituire appena finiamo la semina E lo andiamo ovviamente a portare al campo 24 Quello che sta lavorando il 1355 Ok raga eccoci in campo Allora in realtà io qua però prima dovrei Probabilmente fertilizzare Perché ho paura che poi crescendo Non posso fare più quello che dico io Quindi fatemi vedere giusto se devo Eh sì Accidenti Ah il campo 6 è già fertilizzato al massimo Questo è un bene Però devo assolutamente fertilizzare il campo 24 Quindi devo andare a comprare Anzi a comprare Voglio dire Devo andare a prendere Il L'autobot La botte bossini Carica di Credo ci sia digestato ancora dentro E venire a digestarmi sta roba Quindi via Partiamo Belli spediti Ok la botte ha Il 6% di Eh digestato Quindi devo andare anche al BGA E andarmi a caricare il digestato Però vabbè poco male Allora una cosa che devo fare assolutamente Però perché tanto passo vicino ai campi È prendermi il same E con la follow me Eh Caricarmelo Ok raga Arrivati i campi Nel frattempo ho anche spostato il Fiat cingolato Così almeno Eh Ha potuto iniziare a lavorare Anche sul campo 23 Lasciamo un attimino Questo same Parcheggiato qua Perché ripeto Dobbiamo prima Passarci il digestato E poi Eh Iniziamo a seminare Ok eccoci arrivati al BGA Allora Adesso Mentre qui Si ricarica la botte Eh La stacchiamo un attimino Allora iniziamo a fare Riempi con digestato Ok Tanto penso si riempia lo stesso Sì E nel frattempo noi Dato che abbiamo finito con la paglia Ci Ehm Compartiamo sto Sto Biomassa Un attimino al volo E così la copriamo Almeno abbiamo Anche poi per la prossima puntata Qualcos'altro da venderci E via Allora iniziamo a fare Allora iniziamo a fare Allora iniziamo a fare Mamma mia Finalmente Novantanove Novantanove Finalmente Oh Cento Vi giuro ragazzi Ho messo un'eternità 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 Sì che Effettivamente il trattore Si è abbastanza grossino Ma Tutto sommato Poteva averci anche un paio di ruote in più Forse facevo prima Vabbè Comunque Si l'ho coperto Finalmente Adesso andiamo a prenderci la nostra bella botte E Ci andiamo a spandere il digestato Sperando di riuscire a fare tutto Non credo che forse in questa puntata Riusciremo a vendere Il concime Adesso va Proviamo Andiamo a vedere raga Ok raga Finalmente Eccoci in campo Mettiamo subito a lavorare L'operaio Con la botte Mamma mia Che lag Che mi tira Oramai sta diventando troppo pesante Sta Sta mappa Ragazzi Veramente troppa Troppa Roba Allora Mettiamo a lavorare questo Intanto il 1355 Vedo che se la cava Eccolo qua Infatti Devo dire che se la sta cavando Più che bene Adesso andiamo a prenderci Il Same E lo mettiamo a lavorare Lì Sulla prima passata Che sta facendo La nostra bella botte Con il Lamborghini Ok Spero se la cavi Tranquillamente da solo Ma credo assolutamente Sì Vediamo un pochettino Questi lag Mi stanno facendo impazzire Raga La mappa sta veramente Diventando Pesantissima Però abbiamo Almeno Fertilizzato al 100% Già Il campo Adesso Nell'ultimo tempo Che ci è rimasto Raga Veramente poco Ma Un pochettino Ancora ci è rimasto Mentre quelli Lavorano Beatamente Noi ci prendiamo Ok raga Allora intanto Ci iniziamo a prendere La Caricatore frontale E adesso ci andiamo a prendere Ovviamente La benna Che compriamo Assolutamente Subito E ci andiamo Assolutamente A caricare Quello che ne è Cioè tutto un bunker Pieno Di Aspettate che intanto Metto l'acqua Di concime Che ho Dai Dai maiali Ok raga Benna presa Andiamoci Assolutamente Ora A caricare Finalmente Questo bel concime E però prima Aspettate Perché sto comprando Tutta sta roba Però effettivamente L'etame Si potrà vendere Al biogas Credo Assolutamente Sì Esatto E anche Ce lo pagano Anche bene 300 euro Non male Bene Abbiamo tanti Bei Quintali Di Di quell'etame Quindi Benissimo E in più Produciamo digestato Ci pagano E in più Ci danno anche Del fertilizzante Mica male Cioè guardate Quanto è pieno Questo bunker Veramente Cose dell'altro mondo Cose dell'altro mondo Davvero Adesso Ci prendiamo L'iveco Che è Stramegazzozzo Però mi piace Così raga Devo dire C'è quel fascino Sporco Così Non da poco Lo mettiamo Qui E almeno Possiamo Caricarci Tutto Come ci piace A noi Purtroppo ragazzi Non ci è rimasto Molto tempo Vediamo Quello che riesco A fare Al limite Le cose Le Queste cose Le finiamo Nel prossimo episodio Piuttosto raga Andiamo avanti Un pochettino Di più Con questa serie In realtà volevo iniziare Già la nuova serie Che ho già trovato La mappa E tutto Ma Probabilmente Continueremo ancora Un pochettino qua Credo almeno Per un'altri Decina di episodi Probabilmente Arriviamo probabilmente A 50 episodi E poi Ovviamente Ci saluteremo Per un'altra Serie La cosa brutta È che Nonostante Io cerchi Di caricare L'animazione Della Della cacca Non si Non si muove Neanche Di un millimetro Perché ce n'è talmente Tanta Credo Dovremmo passare Alle maniere Forti Perché guardate Lì Straborda Addirittura Quindi Penso che Dovremmo Vi dico la verità Prendere I I nastri Bene raga Finisco io qua Perché l'operaio Sta facendo un po' Di casini E nel frattempo Che io qua Do bene Il mio bel digestato Vi ringrazio Per aver visto Il video fino a qui Ovviamente Vi rinnovo L'invito ad andare Nei miei In descrizione Che trovate I miei social network Compreso il link Del canale Di telegram Se volete Insomma Darci un'occhiata Almeno Potete trovare Il nuovo canale Lì pubblico Un bel po' Di robette Carine Più che altro Pubblico anche Gli aggiornamenti Dei Dei video Quindi se vi interessa Andateci a dare un occhio Bene Io vi mando Un grosso saluto Adesso questo Mi passa In mezzo Non capisco Perché sta facendo Sti lavori Raga Vabbè Lasciamo perdere Io vi mando Un grosso saluto E ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti